L'amministrazione comunale di Agropoli è da sempre sensibile alle iniziative sportive in quanto elementi di crescita sociale e di aggregazione, in particolare per i giovani. È risaputo che lo sport è da sempre fonte di insegnamenti positivi per lo sviluppo fisico e cognitivo dei giovani e come tale va promosso e sostenuto. La città di Agropoli, grazie alla disponibilità di impianti sportivi moderni e funzionali, è divenuta meta interessante per chi vuole vivere le grandi manifestazioni sportive nazionali ed internazionali e per chi vuole cimentarsi nei vari sport. A tal proposito la SD Planet Fitness Karate Do ha chiesto di poter usufruire del palazzetto Andrea Di Concilio, sito in via Taverne, al fine di realizzare un campionato di karate per il centro-sud Italia. L'evento rappresenterà l'occasione per dare un ulteriore impulso al turismo della città e del territorio.